Un giorno sarò lì all'ufficio cittadino, quanto non verrà fatto il servizio a quel cittadino che paga le tasse, quelle persone che sudano tutti i giorni per pagare le tasse, tutte quelle persone che fanno fatica a fine mese a arrivare, io sarò io il primo cittadino a mettermi insieme a lui andando negli uffici, danno vado via quando il servizio è stato fatto!